Una prima domanda, si è parlato molto in questi giorni della eventualità che lo Stato arriva a una pacificazione degli anni di piombo, a una liberazione di Renato Curcio, ha espresso in particolare a Renato Curcio l'intenzione, ovvero fosse libero, di venire a vivere qua a Trapani, in Sicilia, e lavorare in una comunità di recupero di tossicodipendenti. Cosa ne pensa il cittadino e scrittore Leonardo Sciascia? Ne penso molto bene, quei terroristi che non hanno ucciso nessuno, io penso che dovrebbero ormai aver pagato.